Noi e Valeria ci separiamo. E' vero, è così, è la vita. E i ragazzi come l'hanno presa? Un nuovo film al Cinema Esperia. Da giovedì per tutta la settimana arriva in programmazione. Il nuovo film è con Paola Cortellese e Antonio Albanese, coppia che scoppia il mamma e papà. Marito e moglie hanno procinto di divorzare che vorrebbero scaricare i figli sull'antrio conoggio, ma non sarà per niente facile e soprattutto si metteranno in situazioni tragicomiche e silaranti. Una coppia comica da non perdere. Madre e padre non si nasce, ma si diventa. Ed essere capitane di un'arca che trasporta in mezzo ai flutti dell'infanzia e al diluvio dell'adolescenza due o tre più esemplari della razza umana è una missione per cui non tutti sono portati. Se puoi crescere i figli, significa diventare autisti, cuochi e intrattenitori e rinunciare alle proprie legittime ambizioni professionali. Ecco che fare i genitori può diventare un peso, una costrizione, un claustrofobico inferno.